Salve a tutti e bentornati ai laboratori dal basso. Sul filone di questa mattina abbiamo parlato, abbiamo già introdotto la questione del turismo enogastronomico, abbiamo accennato di vini questa mattina e con Alma Sinibaldi, giornalista professionista che si occupa di enogastronomia e vino, continueremo questo percorso, questo racconto della Puglia proprio attraverso il vino. Ci tengo a sottolineare che Alma sarà anche protagonista successivamente a questa lezione in un dibattito dal titolo Viticultura, paesaggio e turismo, come cambiano il territorio. Quindi vi invito a trattenervi proprio perché sarà un incontro altrettanto interessante. Buona lezione, vi invito a fare domande, osservazioni, interventi di qualunque tipo e Alma saprà sicuramente soddisfare ogni dubbio. Ok, allora buona lezione. Grazie Luigia, buonasera a tutti. Vorrei almeno due risposte da voi. Perché avete scelto questo seminario rispetto agli altri, oppure se avete seguito tutti i seminari, perché considerate il vino un motivo di viaggio o una motivazione importante? Soltanto perché lo dicono i numeri oppure perché lo pensate personalmente e avete sperimentato questo tipo di esperienza? appunto. Due risposte. Per il nostro lavoro, per il nostro lavoro, può essere una risorsa che ci permette di scavare agli origini, dalla vita greca, per il tuo parco. Un modo per collegarci, noi come operatori, al consiglio dei operatori, alle radici, ma anche per portare il territorio che stiamo accettando alle radici più molto avverso, altruista, delle radici culturali e storiche. Chi altro mi dà un'altra risposta? Anche in più viaggi che ho fatto come questo possa essere veramente il motore trenante di un territorio. Io per prima quest'estate sono andata in Portogallo, diciamo non esclusivamente per il vino, però ho dedicato quattro giorni a quello. Noi abbiamo fatto tutta la zona da Porto risalendo il Douro, abbiamo fatto il trekking dei vigneti, siamo andati a vedere delle cantine bellissime ed era tutto pieno e i costi erano altissimi. Quindi insomma paradossalmente dormivamo con 15 euro ma pagavamo dei pranzi, delle degustazioni anche a 50-60 euro. E quindi penso che sulla base della passione ovviamente una persona può scegliere di fare questi percorsi. Ho visto cantine sia che ospitavano le famose quinta del Portogallo, tutte piene soprattutto di americani e di francesi. E oltretutto viaggiavo con delle amiche senissi della zona del Chianti e quindi anche tipo da loro ho visto che praticamente il turismo, Tolta Siena, è tutto dedicato al vino. Quindi perché non in Puglia dati vini che abbiamo, no? I dati nazionali del Movimento delle Città del Vino parlano di 6 milioni di persone che annualmente si muovono in Italia. Spinti dal desiderio di conoscere un territorio soprattutto partendo dalla sua enogastronomia. I tedeschi amano dire siamo quello che mangiamo. In realtà siamo quello che mangiamo. Siamo il frutto della nostra dieta mediterranea. Siamo il frutto di un'alimentazione basata su olio, vino e grano. Sono le tre portanti della dieta mediterranea. Siamo la regione attraverso la quale la vitivinicoltura si è diffusa nel resto dell'Europa e di là nel resto del mondo. La Puglia è il luogo in cui sono sbarcati gli eroi troiani alla fine della guerra di Troia, portando con sé la maggior parte dei vigneti dalla Grecia antica, dove è nata la cultura enologica. Ovviamente quando pensiamo alla cultura enologica dell'antichità non ha niente a che vedere con quella che è la nostra cultura attuale. I romani bevevano un succo d'uva che non aveva nulla a che vedere con il nostro vino, lo chiamavano nettare di bacco, ma era in realtà un succo d'uva speziato, ripieno appunto di spezie, perché altrimenti sarebbe stato assolutamente imbevibile. Se noi lo assaggiassimo oggi diremmo, oddio, che cosa tremenda. Il vino è uno dei nostri portabandiera. La Puglia ha leggende appunto legate agli eroi troiani allo sbarco di Enea in terra di Otranto, allo sbarco di Diomede sul Gargano, tanto che le terre del Gargano, le terre interne al Gargano, vengono chiamate Diomede. In territorio della provincia di Foggia esiste una città che si chiama Troia, è un vitigno che è nato in quella zona e poi si è diffuso fin alle porte di Castel del Monte, che si chiama Nero di Troia e che quindi dimostra un antichissimo legame appunto con l'area dalla quale l'enologia ha avuto origine e ha avuto diffusione. La Puglia quindi è stato un posto per tantissimi anni di transito appunto dall'est di tutti questi vitigni che poi si sono diffusi, ma la Puglia non ha mai avuto fino a qualche anno fa un ruolo di primissimo piano nella enologia internazionale. Oggi non è più così fortunatamente. Perché non è più così? Perché oggi il turista enogastronomico, e lo chiamo enogastronomico, perché insieme al vino probabilmente, quando si viaggia, si vuole scoprire anche quello che si mangia a tavola. Una terra in cui io vengo accolta da un bel vino rosso primitivo, siamo nella terra del primitivo di Gioia, e da un bel piatto di fave e cicorie, mi dà l'idea di una terra agricola, mi dà l'idea di una terra che ha una profonda radice nell'agricoltura. E non è solo una radice, è una realtà. Il rapporto che l'agricoltura ha come incidenza sul PIL della regione è di oltre il 50%. Oggi come oggi la Puglia ha ancora un prodotto interno lordo che dipende per oltre il 50% dall'agricoltura. E questa è una cosa che ci dovrebbe fare onore, perché siamo riusciti, nonostante dopo la seconda guerra mondiale, si fosse diffuso anche da noi il mito dell'industria e dell'industrializzazione a tutti i costi per creare nuovi posti di lavoro, come purtroppo è accaduto a Taranto e lo sappiamo, sono state distrutte masserie storiche, è stato distrutto un territorio intero a causa poi di quello che è stato provocato dall'inquinamento dovuto all'insediamento dell'ILVA. Ma già per insediare alle porte di Taranto quell'impianto sono state distrutte una serie di masserie storiche. Oggi a 20 km dall'ILVA non si può né coltivare né allevare bestiame, eppure in territorio di Taranto, in territorio ionico, esistono dei prodotti, ed esistevano purtroppo, oggi non sono più tanto commestibili, esistono dei prodotti di qualità, come la Clementina del Golfo di Taranto, ed esisteva la cozza di Taranto, che era un'altra risorsa economica enorme per la città. L'economia legata a questo prodotto tipico è stata distrutta, e la cozza tarantina era uno dei prodotti tipici di tutta la gastronomia, la base di tantissimi piatti della gastronomia tarantina. Oggi un turista che arrivasse a Taranto avrebbe grandi difficoltà ad assaggiare la pasta con le cozze, le cozze gratinate, le cozze ripiene, ovvero tutto quello che esprime quel territorio. Quindi, attraverso il vino, che è la punta dell'iceberg, noi riusciamo a comunicare quella che è la sostanza, la identità del nostro territorio. Conversano non ha una tradizione antica di vitivinicoltura, ma tutto il territorio della provincia di Bari, comunque ne è evocato, tutta la regione Puglia ne è evocata. Nel 2013 la Puglia è stata definita, oltreceano, dal Sunday Times, la regione principale come destinazione enogastronomica di tutto il mondo. Quindi l'anno scorso la nostra regione è stata sotto i riflettori e ha avuto grandissima notorietà. Ora sapete bene, come dicono i cantanti e gli artisti in genere, raggiungere il successo è facile, quello che è difficile è mantenerlo. Cosa si fa per mantenere il successo? Io oggi vorrei sottoporvi questo approfondimento attraverso l'analisi di un film. Sideways è stato un film molto visto, soprattutto dagli amanti del vino. In realtà il titolo non diceva nulla, sideways, di lato, lateralmente. In viaggio con Jack. Nella locandina, questa verde, ci vediamo solo una bottiglia, con loro ficcati dentro, i due protagonisti. Mentre in quest'altra, quella di destra, abbiamo un'idea invece proprio della gioia, dell'emozione che scaturisce dall'incontrarsi attorno a un bicchiere di vino. Lo vediamo nella luce, lo vediamo nel fatto che lo sfondo è uniforme, è quasi sfocato alle spalle dei nostri protagonisti. Il fuoco dell'immagine è tutta attorno a quello che stanno bevendo e mangiando. Questo vino è un atto d'amore. Il regista Payne, Alexander Payne, lo ha realizzato nel 2004. I malpensanti hanno dichiarato che fosse una trovata esclusivamente pubblicitaria. Io dico che non è una trovata pubblicitaria, ma è un modo molto utile per promuovere sotto il profilo del marketing un territorio. Non so se avete la passione per i telefilm americani, per le serie tv americane, oppure comunque se vi piace andare al cinema e avete l'abitudine di guardare film. Bene, negli ultimi dieci anni, da dieci anni a questa parte, tutti i film, dico tutti, e tutti i telefilm americani hanno personaggi che bevono vino, che tornano a casa e la prima cosa che fanno dopo aver poggiato la borsa, tolti gli occhiali o le scarpe, è andare al frigo e aprire una bottiglia di bianco. E non la bevono in un bicchiere comune, bevono un bicchiere di vino in un calice adeguato. Quindi dimostrano di avere grande dimistichezza con il vino. Bene, sappiate che l'America era l'unico, era, dico era, l'unico continente che con la vitivinicoltura non aveva nulla a che fare prima di Cristoforo Colombo. La vitivinicoltura americana nasce con l'arrivo degli europei. Dopo la conquista delle Americhe, gli europei e soprattutto i francesi, in prima battuta, avevano individuato nelle grandi distese dei territori americani la possibilità di coltivare la vite e quindi di avere nuove terre da sfruttare e aumentare i propri mercati, aumentare la propria produzione. Hanno provato a coltivare la vite locale, non ci sono riusciti a coltivarla per trasformarla in vino perché la vite americana era una vite silvestre, era una vite assolutamente spontanea, non si traduceva in vino perché non tutta l'uva è adatta ad essere trasformata in vino. La cultura della vigna è una cultura parca di acqua, povera di acqua non è una cultura che prevede irrigazione, non so se sto ripetendo cose che avete già appreso in questi giorni però mi serve per sottolineare determinate cose ed è una cultura del sacrificio, è una cultura che ha bisogno di continue cure e di continue attenzioni è una cultura del sacrificio perché per poter avere un grappolo con determinate caratteristiche che dia un vino con le caratteristiche che vogliamo dobbiamo sacrificare dei grappoli e concentrare e ridurre le rese i vini migliori vengono da rese minime più piccola è la resa, più buono è il vino perché? Perché diamo alla pianta la possibilità di concentrare tutte le sostanze nutritive in un unico grappolo è come se avessimo un'enorme mela da un solo albero avendo tolto tutti gli altri frutti quando ancora sono in fase di formazione bene, questo film che ha conquistato anche un Oscar per la sceneggiatura in realtà nasce da una storia molto semplice Jack è un attore di... ormai diciamo sulla via del declino che è stato protagonista di una grande soppopera su popera di grande successo è un belloccio, è l'uomo a destra e parte con il suo vecchio amico Miles che è un professore sfigato, scrittore sfigato che sta perennemente alle prese con il suo romanzo che nessuno pubblicherà mai e che non si è mai ripreso dal divorzio eternamente innamorato di questa donna che lo ha lasciato con la quale condivideva la sua grande passione per il vino e allora Miles non fa altro che organizzare l'ultima settimana da scapolo del suo caro amico come un viaggio alla scoperta della vitivinicoltura californiana la vitivinicoltura californiana quando parlo di vitivinicoltura parlo proprio di coltivazione della vite finalizzata alla enologia la vitivinicoltura californiana è nata nel 1960 noi oggi con grande disinvoltura acquistiamo i vini californiani li assaggiamo, li apprezziamo sappiamo che anche molti produttori europei hanno fatto degli investimenti sostanziosi in California proprio per ottenere dei vini aventi delle caratteristiche diverse da quelle che possiamo ottenere qui in Europa e la California è l'unico territorio degli Stati Uniti d'America atto proprio alla coltivazione della vite perché le sue caratteristiche sono quelle simili a quelle che ritroviamo nel bacino del Mediterraneo quindi condizioni di sole, luce, umidità, temperatura e ventilazione oltre alle condizioni del terreno che sono essenziali la vite non si può coltivare ovunque non si può coltivare in tutti i luoghi della terra ha bisogno di determinate caratteristiche che sono proprio quelle che ho elencato e in California hanno scoperto che esistono le stesse caratteristiche quando qualcuno venendo in Puglia in vacanza dice che la Puglia è la California d'Europa individua nella Puglia più o meno le stesse caratteristiche pedoclimatiche che esistono in California proprio per la mitezza mi perdoni il clima perché lo sto offendendo il clima attuale per la ex mitezza che avevamo per le stagioni definite per l'alternanza di caldo e freddo che sono caratteristiche importanti per una specie vegetale come la vigna le nostre vigne sono ormai aduse ad avere scarsa acqua tant'è che quest'anno le previsioni degli enologi sono pessime e non soltanto per la vigna ma anche per l'ulivo sono due colture che si potrebbero tranquillamente definire arido colture fatte veramente in regime di assenza di acqua quasi la vigna per sue caratteristiche delle radici ha bisogno di un terreno stratificato in cui esistano anche pietre e ama la sabbia in superficie perché la superficie ricoperta di sabbia evita la traspirazione dell'acqua sottostante la vigna quindi è come se amasse questi piccoli serbatoi d'acqua che si creano tra le pietre dopo le piogge e la presenza della sabbia in superficie evita l'evaporazione dell'acqua dalla terra e riesce a vivere benissimo con questa poca acqua ovviamente quando parliamo della vigna stiamo parlando sempre della vigna per uva da vino perché al contrario i tendoni in cui noi andiamo a coltivare le uve per avere uva da tavola hanno bisogno invece di grandi quantità di acqua poiché l'uva poi viene venduta a peso e quindi deve essere invece molto ricca di acqua anche per la sua funzione idratante che è quella tipica proprio della frutta noi mangiamo frutta per idratarci anche bene, durante questo viaggio Miles ha modo di incontrare un'altra donna che condivide come lui la grande passione per il vino e il linguaggio che usa lui e anche questa donna è molto tecnico è molto tecnico ma nel senso corretto del termine non stiamo di fronte a due persone che parlano una lingua assolutamente incomprensibile ai più anche chi non è detto ai lavori riesce a comprendere esattamente quello che Miles spiega e Miles spiega al suo amico come nascono i rosati spiega come nascono i vini più importanti, quelli che piacciono a lui c'è l'apologia del Pinot, del Pinot Noir in questo film c'è una scena bellissima questo è il Picnic a 5 in cui il quinto invitato è proprio il vino e già nella seconda scena quando Miles va a prendere il suo amico che entra di corsa in macchina e pensa invece che questo viaggio lui ovviamente che non si intende di vino, l'attore di soppopera vuole sfruttarlo come viaggio addio al nubilato anzi al celibato, scusate per ubriacarsi e per darsi insomma a grandi bevute e sta poi a una bottiglia di champagne senza guardare l'etichetta e il valore di quello che sta per bere provoca la rabbia di Miles e provoca la prima lezione sul vino proprio per introdurre tutti quanti a quella che è la logica di questo vino queste facce sono assolutamente espressive di quello che è l'atteggiamento di un profano e invece di un esperto di fronte al colore del vino lui sta cercando disperatamente di spiegare al suo amico le venature del colore di questo vino che stanno degustando e guardate il volto attento dell'attore che comprende ovviamente tutto è un film anche molto divertente io l'ho amato, amo rivederlo ogni tanto ed è veramente un film che riesce a trasferire a chi lo guarda la sensazione che si prova durante una degustazione il vino è innanzitutto emozione e attraverso questa emozione noi ci leghiamo anche al posto nel quale lo stiamo consumando quello che fa di un vino un testimonial privilegiato di un territorio è proprio il ricordo che ce ne portiamo con noi durante un viaggio lo assaggiamo ci piace, ce ne innamoriamo e quando torneremo a casa lo cercheremo lo cercheremo e ogni volta che lo berremo ricorderemo quel territorio il vino così come tanti altri piatti tipici quanta gente viene da noi, si innamora delle orecchiette e poi ormai le orecchiette con le cime di rapa sono diventate alla stessa stregua della pizza napoletana testimonial della gastronomia italiana nel mondo non più solo pugliese orecchiette e cime di rapa sono famosi come la pizza napoletana in tutto il mondo la Puglia è la regione delle orecchiette e cime di rapa lo sanno tutti quanti ormai per esperienza personale mi è capitato di confrontarmi più volte con paesi che della Puglia non conoscevano assolutamente nulla non sapevano neanche dell'esistenza della Puglia bene in pochissimi anni la nostra regione invece è riuscita a farsi conoscere e a farsi apprezzare anche in paesi in cui non era mai stata nominata neanche dell'Italia quando andiamo all'estero conoscono Milano, Roma, Firenze, Venezia, Napoli perché è famosa, la pizza, basta di dove sei? Di Milano, di Firenze, di Venezia, di Roma? Napoli, quando tu dici più a sud, Napoli oppure Sicilia la Puglia è quella che tutti quanti definiscono sotto il profilo enologico una regione emergente che, come dico io, di emergente non ha assolutamente nulla è ormai una realtà è una realtà vincente perché la Puglia, a differenza di altre regioni italiane è riuscita nel tempo a mantenere preservate dal meccanismo della globalizzazione le proprie tradizioni è riuscita nel tempo a valorizzare i propri vitigni fino a 15 anni fa il nero di Troia non lo conosceva nessuno il negro amaro, tanto meno non parlo neanche delle persone che abitano al di là dei confini regionali ma parlo proprio di noi pugliesi l'unico vino che conoscevamo da pugliesi era il primitivo e non sapevamo neanche che ci fosse una differenza tra primitivo di Manduri e primitivo di Gioia del Colle quando andavamo a comprare il vino ah, il vino primitivo ok per il resto era vino cosa vuoi? un bianco, un rosso o un rosato? eravamo convinti che il rosato fosse una mescolanza di bianco e rosso come pensano ancora che sia i francesi che spingono per strutturare in legislazione pratiche simili di mescolanza non conoscevamo la potenzialità economica legata all'imbottigliamento dei nostri vini la nostra era una vendita quasi sempre sfusa siamo ancora lontanissimi da quello che potremmo raggiungere come obiettivo commerciale, economico e di visibilità perché adesso l'obiettivo non è più soltanto commerciale ed economico e quindi non è più soltanto un interesse privato del viti vinicoltore ma grazie al vino la Puglia si è fatta conoscere è diventata la regione top nella classifica delle destinazioni enogastronomiche del 2013 e quindi adesso grazie a questo è l'azienda che ha necessità di legare il proprio nome al nome Puglia non è più un'azienda che va a conquistare il mercato da sola è un'azienda che conquista il mercato forte di un brand regionale importante e pesante come la Sicilia la Puglia esattamente come la Sicilia ha fatto un lavoro di marketing territoriale importantissimo e questo l'ho potuto fare grazie ad una sinergia che riconosco ha funzionato molto bene io ho vissuto negli anni la trasformazione di quella che era la visibilità della Puglia ad esempio in una grandissima fiera di settore, la più grande d'Italia, Vin Italy fiera internazionale del vino le prime volte che sono andata a Vin Italy da sommelier, da giornalista ci sono andata un po' per curiosità e mi sentivo orgogliosa quando trovavo una cantina Pugliese questi di casa mia, un bello, questo di Manduria questo viene dal Salento, questo viene dalla provincia di Bari questo è di Foggia quante cantine conoscevamo? quanti nomi di produttori conoscevamo? ma forse conoscevamo Leone de Castris, che è una cantina storica del Salento Mottura, della provincia di Taranto o solo Perto le troviamo anche nella grande distribuzione come cantine, come marchio commerciale della Valle d'Itria che conoscevamo le cantine del Locorotondo, grande cantina sociale, grande storia e poi, buh, della zona di Castel del Monte, Rivera grande nome Torrevento del nord di Foggia conoscevamo Torre Quarto e conoscevamo, che so D'Alfonso del Sordo Conte Spagnoletti Zeoli forse basta fino a dieci anni fa Cantine Due Palme era una cantina cooperativa importante anche numericamente rappresentativa del territorio è la cantina sociale più grande di tutto il Mezzogiorno ha oltre 800 soci conferitori che vuol dire? che la nostra è una realtà purtroppo ancora spezzettata perché guardate, la forza e la debolezza del nostro settore vitivinicolo stanno tutte in questo nella capacità di fare rete e di unirsi in cantine sociali al di là di quello che invece è un generale come dire è una generale propensione ad essere molto individualisti noi in Puglia abbiamo oltre 600 cantine l'Australia che è una terra emergente una vera terra emergente sotto il profilo dell'enologia e della vitivinicoltura ha lo stesso territorio il numero di ettari a vite da vino della Puglia ma ha solo 4 aziende ci sono solo 4 cantine che quindi possono con un'enorme capacità economica investire in comunicazione e farsi conoscere le nostre 600 cantine se non fanno rete se non possono fare riferimento a una rete di turismo enogastronomico a un brand che valorizzi il territorio sotto il profilo del marketing sarebbero finite quindi se non ci fossero queste due grucce su cui appoggiarsi le nostre cantine avrebbero già chiuso da tempo fortunatamente le cantine sociali come quella del Locorotondo come quella cantina Due Palme o altre realtà che esistono in tutta la regione perché fortunatamente ce ne sono ce ne sono tante riescono a sopperire a questo individualismo estremo pensate la nostra agricoltura è tutta come la vitivinicoltura tanti piccoli fazzoletti di terra tante persone con un piccolo orto da coltivare tranne per alcuni piccoli segmenti in cui c'è stata un'evoluzione anche grazie alla positività del riscontro trovato sul mercato ad esempio parlo dell'uva da tavola nel settore oleario siamo nella stessa situazione tanti piccoli produttori che conferiscono il cui obiettivo principale è innanzitutto farsi l'orio per sé poi quello che ne viene in più viene venduto ai frantoi o agli oleifici che fanno semplicemente l'imbottigliamento e che riescono sempre consociandosi sotto tutte quelle etichette a proli a soproli a fare un'etichetta brand e a fare del marketing territoriale attorno a dei vigneti o attorno a degli oliveti scusate o attorno a delle dolbe bene la situazione che c'è in California invece è molto simile a quella che c'è in Australia grandi tenute grandi estensioni grandi capacità economiche di persone molto ricche l'Italia e in questo anche la Puglia sta attirando in questi anni gli investimenti anche di grandi nomi in Puglia negli ultimi dieci anni hanno aperto le proprie cantine marchi come Antinori marchi come Gancia Marchi come sono nate Pasqua che è un altro grande produttore che ha sede nel Veneto in Puglia quindi il Veneto viene a investire in Puglia il Piemonte viene a investire in Puglia la Toscana viene ad investire in Puglia perché? perché hanno riconosciuto e riconoscono al nostro territorio grande appetibilità posso dire che forse questa cosa che vedo anche cerchiamo a mano però di me che tutti i gli hanno più coscienza della qualità del loro prodotto per cui magari non sono più disposti come magari era un tempo a cedere il loro prodotto come prodotto da taglio e questo vale per l'olio per il vino e quant'altro insomma per cui hanno cominciato a dire ai produttori se volete la nostra uva venite qua venite a velo a prendere pagare a costo praticamente zero e poi rivendervelo sotto vostra etichetta e a noi non rimaneva nulla esatto la Puglia era ogni anno fra le prime tre regioni in termini di volumi di diattoliti e prodotti ogni anno c'era la gara e stavano sempre lì Puglia Veneto e Sicilia Puglia Veneto e Sicilia a scavalcarsi una volta andava avanti il Veneto una volta la Sicilia una volta la Puglia a seconda delle annate anche perché le condizioni climatiche sono assolutamente diverse per cui se va bene al sud molto spesso non va bene al nord quest'anno va male dappertutto perché questo flagello climatico ha deciso di colpire tutta l'Italia senza limitazioni e quindi le rese saranno molto inferiori quest'anno non solo la Puglia ha compreso questo ma la Puglia lo ha compreso pian piano a partire dalla fine dell'Ottocento cosa ha fatto crescere la vitivinicoltura pugliese dopo la scoperta dell'America adesso torniamo a quella famosa sperimentazione i francesi le europee in genere ma soprattutto i francesi che all'epoca portavano la bandiera dei principali produttori pensarono che non essendo produttiva la vite che avevano trovato la vitis silvestris che avevano trovato nelle Americhe beh ci portiamo i nostri vigneti lì e coltiviamo i nostri vigneti quindi avevano portato lì il Cabernet il Cabernet Sauvignone il Cabernet Frank il Sauvignon Blanc il Pinot Noir il Pinot Blanc lo Chardonnay il Syrah tutti questi che oggi come oggi vengono definiti universalmente come vitigni internazionali hanno provato a farle crescere lì ma non riuscivano la pianta moriva moriva dalle radici e allora ha detto vabbè proviamo a portare i vitigni dell'America qui così magari se non sono buoni quei terreni sono buoni i nostri e magari arricchiamo la nostra enologia con quelli beh portando quei vitigni qui hanno portato la distruzione della enologia europea perché insieme a quei vitigni hanno portato una malattia che era la filossera che distrusse tutta l'enologia europea tutta la vitivinicoltura europea a cavallo fra l'ottocento e il novecento la filossera non è altro che un piccolo animaletto della specie dei rincodi che va a minare le radici della vite quindi distrugge la vite distruggendo le radici la pianta secca e quindi non produce più niente e questa filossera dalla zona di Bordeaux dalla zona principale produttiva del vino si spostò in tutta l'Europa passando per la Svizzera e arrivando fino in Italia questo con una velocità molto limitata man mano che in Francia venivano distrutti i vigneti i francesi cercavano nuovi luoghi in cui andare ad impiantare i loro vitigni per continuare ad avere una produzione vitivinicola e scelsero la Puglia e la Sicilia come principali luoghi perché individuarono nella Puglia e nella Sicilia i luoghi privilegiati in cui c'era un clima ideale un terreno ideale per fare della vitivinicoltura la loro ancora di salvezza ecco perché noi ancora oggi abbiamo tra i nostri vini il Merlot abbiamo il Cabernet ecco perché la Doc Galatina che sta nel Salento per il bianco ha come vitigno principale lo Chardonnay ecco perché il vitigno principale della Doc Sansevero che è la più antica d'Italia non è un vitigno locale ma è anche questo un Merlot ovviamente oggi stiamo cercando di stiamo il mondo enologico sta cercando di recuperare invece quelli che sono i nostri antichi vitigni autoctoni ed è questa la nostra fortuna la lentezza con la quale la Puglia la Puglia ecco io quello che io amo dire l'Australia è una bellissima auto da corsa che va a benzina ma brucia tantissimo carburante la Puglia è un diesel parte piano ma il successo che sta costruendo lo sta costruendo mattone su mattone con lentezza ma con consapevolezza dopo aver imparato quindi dai francesi che non solo vennero qui a portare i vitigni ma vennero qui anche a portare la loro tecnologia e i loro metodi produttivi tant'è che la più antica cantina di Puglia che è Torre IV che c'è scritto sulla cantina dal 1840 quindi pensate a 170 anni aveva un cancello di ingresso a misura perché di là partissero i treni carichi di uve o di mosti che andavano direttamente in Francia quindi aveva anche una linea ferroviaria che passava per la cantina un'altra delle cantine più antiche di Puglia ad Alberobello la potete andare a vedere sorge proprio lungo la linea ferroviaria oggi si chiama Cantina Albea ed è stata rilevata da un produttore di salumi della cinta senese Umbro scusate chi è che mi ha corretto? va bene Umbro che ha voluto diversificare il suo business nel lago alimentare appunto investendo in questa cantina e proprio lungo questa sorge proprio lungo la ferrovia e di là venivano caricate grandi quantitativi di uve cabernet che andavano anche queste in Francia tant'è che tra i rossi che vengono prodotti nella Valle d'Itria a grande importanza hanno proprio i vini a base di cabernet anche se noi la Valle d'Itria la conosciamo meglio per i vini bianchi perché è un territorio maggiormente evocato proprio per i vini bianchi bene i francesi sono venuti a portarci i loro vitigni e ci hanno portato il cosiddetto know-how ovvero come si fa il vino abbiamo iniziato lentamente hanno iniziato piccole famiglie a costruire grandi marchi e come dicevamo prima li abbiamo citati abbiamo citato Leone De Castris abbiamo citato Rivera sono ancora marchi familiari che vengono trasmessi di padre in figlio e le cui potenzialità sono in continua crescita perché non solo fanno si basano proprio su una storicità del marchio e del nome ma perché le nuove generazioni che stanno prendendo la guida di queste cantine lo stanno facendo con la consapevolezza di oggi della delle potenzialità e con gli strumenti oggi a disposizione e quindi tornano in cantina da enologi tornano in cantina da esperti di marketing tornano in cantina a guidare la loro cantina dopo aver fatto degli studi approfonditi su come muoversi e quindi questa è un'altra secondo me particolarità che la Puglia in questo momento sta sfruttando proprio il ricambio generazionale che aumenta la consapevolezza certo al di là di tutto questo c'è una spinta che ci vorrebbe più aggressivi sul mercato più moderni più competitivi la fortuna però ci viene molto spesso in aiuto a me piace molto citare il caso del primitivo di Manduria che ha avuto un exploit negli ultimi vent'anni incredibile e questo proprio grazie agli amici californiani i quali proprio perché che erano molto brillanti e rampanti e aggressivi sul mercato scoprirono che esisteva un legame genetico tra il vitigno Zinfandel che è uno dei loro vitigni tipici e il vitigno primitivo di Manduria e quindi sbandierarono ai 420 che è il primitivo di Manduria fino a quel momento sconosciuto mentre lo Zinfandel già si faceva conoscere grazie ai grandi investimenti di marketing che erano stati fatti proprio dai californiani sbandierarono i 420 che noi avevamo rubato noi pugliesi avevamo rubato il loro vitigno e ce l'eravamo piantato qui bene i nostri genetisti hanno dimostrato che sì il legame genetico esisteva ma è lo Zinfandel che è una variante del primitivo di Manduria e questo ci ha permesso di avere una grandissima notorietà in tutto il mondo tant'è che oggi come oggi il primitivo di Manduria è uno dei vini più consumati al mondo e più diffusi nei 5 continenti e non quando parlo di 5 continenti parlo seriamente di 5 continenti un'altra delle fortune della nostra regione proprio a differenza di altre regioni la biodiversità quella che ci dà la possibilità di essere presenti sul mercato tanto con dei vini rossi tanto con dei vini bianchi quanto con i rosati che sono la vera caratteristica dell'enologia pugliese i rosati nascono in Puglia nascono in Puglia da tecniche di produzione antichissime si può dire che il rosato sia una nostra invenzione perché è una nostra invenzione perché il rosato non poteva nascere in Francia o non poteva nascere in Germania o non poteva nascere in altri luoghi già avvocati alla vitivinicoltura perché grazie alle nostre temperature alle nostre ore di sole abbiamo delle uve che raggiungono dei livelli zuccherini elevatissimi livelli zuccherini elevatissimi delle uve si traducono poi in elevati gradi alcolici e allora non tutti erano in grado di sopportare i nostri 15 gradi 14 gradi a tavola esisteva la necessità di fare dei vini un po' più leggeri che potessero anche essere bevuti in estate perché insomma un 15 gradi con 35 gradi di sole insomma un po' dà la testa e allora si nacque appunto il metodo di vinificazione delle uve rosse in bianco sapete come si fa un vino rosato? no se noi prendessimo due acini di uva uno bianco e uno rosso e gli togliessimo la buccia vedremmo che all'interno la polpa è uguale è identica è tutta bianca e allora il colore del vino rosso viene esclusivamente dalla buccia per poter ottenere delle gradazioni di rosso come se come se noi usassimo un photoshop e mettessimo intensità del retino 10% 20% 30% noi basandoci proprio sul tempo subito dopo la premitura delle uve possiamo lasciare a contatto il mosto con le bucce per 6 12 18 24 ore 30 ore 36 ore e avremo dei rosati più o meno intensi come colorazione dopo questo tempo le bucce vengono allontanate le vinacce quindi bucce e semi le vinaccioli e il nostro mosto viene messo a fermentare quindi avremo un mosto colorato più o meno colorato certo rispetto a questo mi viene in mente come mai non si è a seguito di questo tipo di tecniche mai sviluppata per esempio una vera e propria a meno che io parlo da ignorante preciso una cultura della grappa per esempio che è il prodotto della distillazione poi di quelli che sono i tra virgolette sempre residui di produzione allora concludo il discorso sul rosato un attimo e rispondo immediatamente a questa domanda molto interessante la la produzione del rosato è è talmente antica che il primo rosato che è stato imbottigliato in assoluto è il five roses di leone de gastris non so se qualcuno sa la bella storia legata al five roses e al fatto che questo che questo vino che nasce nel Salento 70 anni fa ormai sono 70 anni nasce durante il periodo della guerra ha un nome inglese nasce proprio grazie al fatto che se ne innamorò un capitano americano che amava questo vino rosato e dal successo che ebbe questo vino con le truppe americane nella cantina leone de gastris decise di iniziare l'imbottigliamento del suo rosato che fino ad allora era venduto in maniera sfusa perché five roses perché viene dalla tenuta cinque rose che è il nome della tenuta da cui viene ottenuto ed è legato ad un'altra particolarità della famiglia leone de gastris ognuno dei componenti della famiglia nella sua vita ha avuto cinque figli e quella tenuta si chiamava cinque rose proprio in relazione al fatto che i figli erano fiori e quindi avevano chiamato quella tenuta cinque rose per dare una allure di internazionalità a questa nuova etichetta che nasceva l'hanno chiamata five roses ed è un'altra delle etichette più conosciute che ha fatto la fortuna della Puglia in tutto il mondo torniamo alla grappa la grappa di primitivo la grappa di nero di troia la grappa di negro amaro oggi come oggi sono delle realtà perché andiamo nei negozi nelle enoteche e la troviamo ma sappiamo che non esiste una destilleria in Puglia perché non esiste una destilleria perché la grappa non è un prodotto della vitivinicoltura è un prodotto alcolico la cui produzione e distribuzione è controllata dal monopolio di Stato il monopolio di Stato non permette l'apertura indiscriminata di esattamente alla stregua di quello che accade con i casino e con il settore dei tabacchi sui quali appunto lo Stato ha un monopolio e diciamo ricava anche delle tasse delle accise da queste non permette l'apertura indiscriminata di distillerie la Puglia ha però un'antica tradizione di produzione delle grappe dai suoi vitigni e dalle sue vinnacce grazie al rapporto con alcune distillerie del Veneto che ritirano le nostre vinnacce e che quindi hanno iniziato grazie al successo dei nostri vitigni e la notorietà che hanno conquistato a produrre così come accade per la grappa di Barolo o per la grappa di Amarone che tutti quanti conoscono delle grappe da Primitivo delle grappe da Negro Amaro delle grappe da Nero di Troia voi sapete che le grappe si possono facciamo questa piccola parentesi le grappe si possono ottenere sia dal vino che dalle vinacce la grappa può essere il prodotto della distillazione di un liquido oppure di un solido quindi può essere una grappa di vinacce ma anche una grappa di vino quando troviamo su un'etichetta una generica indicazione grappa di vinacce stiamo parlando di vinacce miste bucce e vinaccioli di qualsiasi tipologia di vino di qualsiasi varietà di vino invece quando abbiamo su un'etichetta la dicitura grappa di Barolo è una grappa fatta da vino Barolo grappa di primitivo è una grappa fatta da vino primitivo oppure grappa di vinacce di primitivo grappa di primitivo è più pregiata la grappa da vino è più pregiata perché si utilizza come materia prima già un prodotto finito che ha un valore economico sul mercato mentre la vinaccia è un sottoprodotto della produzione c'è qualche altra domanda finora sì volevo approfondire un attimo questa cosa delle distillerie perché voglio dire in altre regioni invece queste distillerie ci sono hanno permesso il crescere di determinate culture come quella della grappa e mi chiedevo se ne sappia di qualche misura anche qui che ne so della Puglia che faccia istanze presso gli organismi deputati a questo per appunto avere delle distillerie qua in loco perché mi sembra veramente assurdo così come succede vabbè adesso c'è una piccola digressione però è nello stesso livello di cosa c'è questo tipo di tecnologie che non permettono di valorizzare adeguatamente i nostri prodotti come succede per esempio con la farina di carrube noi assistiamo un paradosso anche lì c'è questa farina che è preziosissima che è il nostro cioccolato mediterraneo noi abbiamo coltivazioni di carrube che finiscono come mangime per bestiame e poi andiamo a pagare a 3,50 euro mezzo chilo la farina di carrube che non producono in Germania ma la trasformano perché loro vengono qua la comprano la portano negli stabilimenti il che vuol dire anche un prodotto biologico ma non ecologico perché per essere distribuito ha attraversato mezzo mondo e so on in senso potremmo fare di questo ci sono delle cose che fanno riflettere e poi diciamo ci ingarbulliamo il cervello se ci fermiamo troppo a riflettere ha ragione insomma quindi volevo capire se ci fossero attualmente delle politiche territoriali che potranno a breve mettere in condizione i produttori di fare questo insomma di crescere proprio a livello locale con un prodotto locale di punta anche perché nel privato i miei amici che fanno vino fanno tutti quanti grappa quindi non è che non l'abbiamo nella cultura però non può essere però non può essere commercializzata magari la fanno come come facciamo un rosolio in casa ecco è fatta la stregua dei rosoli per dirle che comunque la cultura del grappa ce l'abbiamo ma è certo a livello politico la Puglia ha provato e ci prova sempre in continuazione a cercare di avere di ottenere questo permesso perché poi la decisione di di far aprire un'altra distilleria è proprio una decisione legata ha anche un'opportunità economica per lo Stato perché è una rendita visto che poi lo Stato su quel prodotto distillato sui superalcolici ci straguadagna così come ci straguadagna esatto la pressione politica però che la Puglia sta facendo non riesce ancora a tradursi in un in un risultato concreto però la Puglia adesso sta adeguandosi ad esempio le nuove misure per diciamo la differenziazione e la diversificazione anche della vitivinicoltura vanno nella direzione della spumantizzazione in questi mesi la regione Puglia ha approvato una serie di interventi a sostegno della spumantizzazione anche anche grazie al fatto che il gusto a livello di moda si sta spostando nuovamente sulle bollicine quando eravamo piccoli era la cosa più pregiata che si potesse bere lo spumante lo champagne a pasteggiare a spumante o a champagne era una cosa da ricconi bene grazie al successo commerciale di una piccola area italiana che è quella del Franciacorta la spumantizzazione ha ripreso come dire grande appetibilità per i consumatori e non soltanto per le donne perché adesso le donne bevono vino rosso le statistiche dicono che le donne bevono vino rosso quindi quando si va al ristorante con gli amici basta con questi camerieri o sommelier che dicono è per la signora del bianco io gli lancio sempre delle brutte occhiatacce insomma siamo pure signorine ma abbiamo raggiunto la parità almeno sul vino lasciatecela dicevo la spumantizzazione è un altro degli aspetti nel quale la Puglia può investire e può ottenere degli ottimi risultati e perché mentre lo champagne ha dei costi molto spesso proibitivi perché lo champagne è prodotto in una determinata regione della Francia che detiene il monopolio del termine champagne che è proprio legato al nome della regione geografica gli italiani tant'è che si sono dovuti inventare il nome spumante per definire lo stesso prodotto fatto in Italia l'Italia si è dovuta inventare anche un altro metodo che si chiama metodo classico perché il metodo champenoise è esclusivamente dei francesi gli italiani hanno inventato anche un altro metodo di spumantizzazione che è quello charmat che è fatto non direttamente in bottiglia ma in piccole cisterne bene grazie al successo commerciale che ha avuto in questi anni la regione del Franciacorta l'Italia oggi come oggi ha superato in volumi e in notorietà dal punto di vista proprio del pregio qualitativo la Francia il Franciacorta ha superato lo champagne in termini di importanza di rapporto qualità prezzo ma soprattutto di qualità organolettica e in termini di valore nominale tant'è che vengono persino dal Giappone a studiare i metodi di produzione del Franciacorta in tutto questo la regione Puglia ha fatto un'ottima considerazione sulla scorta di questo successo nazionale nella spumantizzazione la spumantizzazione delle nostre uve può creare un ulteriore successo economico anche per la Puglia noi abbiamo una serie di vitigni anche bianchi sempre autoctoni che sono sempre la nostra fortuna perché nel momento in cui in tutto il mondo si produce il vitigno internazionale Chardonnay creando nel consumatore anche nel consumatore comune non parliamo del consumatore consapevole e di quello preparato anche sotto il profilo organolettico parliamo del consumatore comune il consumatore comune dice vabbè Chardonnay è uno Chardonnay è l'altro mi compro quello che costa di meno quindi magari comprerà quello della Nuova Zelanda che dovendo come dire far far cassa fa le sue linee extra costose per i grandi ristoranti e poi la troviamo anche alla metro mi perdonate non è una pubblicità voluta la troviamo anche nella grande distribuzione a prezzi veramente accessibili molto più accessibili rispetto a uno Chardonnay che abbiamo prodotto dietro casa e che quindi non ha neanche grandi costi di distribuzione e di trasporto e allora di contro a questa tendenza globalizzatrice e quindi lo Chardonnay ormai lo fanno in tutti gli angoli del mondo e per poter apprezzare le differenze tra lo Chardonnay pugliese e quello francese e quello zelandese e quello che fanno in Cile o in Venezuela oppure quello che fanno addirittura in Sudafrica che è un'altra regione emergente che fa degli ottimi vini bianchi beh dobbiamo essere veramente molto preparati ma a essere molto preparati sono una minoranza dei consumatori del vino allora la Puglia ha trovato invece nella sua biodiversità e quindi nella sua grande disponibilità di vitigni autoctoni una fortuna e ha saputo riconoscere 15 anni fa le potenzialità dei propri vitigni autoctoni iniziando una produzione in purezza fino a 15 anni fa non esisteva enologo che sapesse domare il nero di Troia era un vitigno che veniva coltivato e utilizzato come vino da taglio perché aveva bisogno di un altro vitigno che lo rendesse stabile lo chiamavano cavallo pazzo gli enologi all'epoca perché lo si metteva in bottiglia e non si sapeva cosa accadesse hanno lavorato su metodi di stabilizzazione e lo hanno domato dicono loro bene oggi abbiamo delle bottiglie di nero di Troia in purezza che sono veramente fantastiche che possono essere destinate a lungo invecchiamento cosa assolutamente impensabile fino a 15 anni fa stessa cosa per il negro amaro per questo vino nero nero molti pensano che la parola negro amaro sia nero amaro qualcuno dice che sì se l'amaro lo sentiamo quando andiamo direttamente alla pianta ad assaggiare l'acino del negro amaro bene il negro amaro non è altro che un nome tautologico è una ripetizione di nero nero che viene dall'incrocio delle due lingue latino e greco nigrum e mavrum è il modo di dire nero in latino e nero in greco nivrum mavrum quindi è chiamato nero nero perché anche se vedete la buccia della sua uva sulla pianta è veramente scurissimo non è violaceo come tante altre varietà di uve è veramente nero nero beh anche lui era un altro cavallo pazzo assolutamente indomabile tant'è che una delle più importanti doc del Salento lo vedeva sempre in coppia con la malvasia che invece faceva la parte della calmante stai buono stai buono Salice Salentino è famosissima come doc che prende il nome dal comune di Salice Salentino ed è una delle più antiche della Puglia perché credo che risalga al 1973 bene anche quello è stato studiato domato e oggi come oggi abbiamo dei negro amaro che sono adatti anche a lungo invecchiamento ma la cosa principale della Puglia è che è riuscita anche a recuperare piccoli areali di produzione di delizie come il Sussu Maniello che è un altro prodotto ottimo ed è un altro anche quello veniva utilizzato come vino da taglio per dare sostanza ai grandi vini del nord e che ancora oggi comunque dà sostanza perché in Puglia siamo arrivati al 40% di imbottigliamento l'altro 60% continuiamo a berce lo sfuso noi perché comunque nei nostri ristoranti nelle nostre trattorie continuano ad esserci la tradizione del vino della casa che è anche molto bella perché fa più famiglia oppure io vedo che da noi in città anche a Bari ma anche nei paesi ci sono tante enoteche che fanno anche la vendita del vino sfuso perché c'è chi preferisce fornirsi del vino sfuso imbottigliarselo a casa e alcune persone mi hanno detto che lo fanno anche per risparmiare sul vetro perché stanno acquisendo una sensibilità ambientale per cui piuttosto che comprare lo stesso vino imbottiglia perché molto spesso è lo stesso vino che viene imbottigliato che viene venduto sfuso lo compro nel brick di plastica utilizzando sempre lo stesso brick perché ho notato proprio questa sensibilità ambientale lo porto a casa lo imbottiglio a casa e continuo a bermi comunque un vino di qualità risparmiando sull'ambiente io non so che ora sia se qualcuno mi può aiutare tra una decina di minuti facciamo la pausa che mi ha detto Luigia che è prevista a metà lezione quindi comunque noi continuiamo a bere del vino sfuso e continuiamo a vendere anche il nostro vino per dare sostanza ad altri vini se andiamo a spulciare se ci viene la curiosità di andare a spulciare nei disciplinari di produzione del come si chiama del brunello di Montalcino del Chianti del dell'Amarone o del Barolo di grandi vini troviamo che tra i vitigni ammessi in percentuale del 5 del 10 per cento ci sono il Primitivo il Negramaro il Nero di Troia il Bombino ovviamente parlo del Bombino Rosso abbiamo dei vitigni anche bianchi che sono ottimi per la spumantizzazione prova ne sia che una delle delle cantine che fa degli spumanti la propria missione delle cantine italiane più di nicchia sta proprio nella provincia di Foggia è Darapri e fa soltanto spumanti io vi invito ad andare a visitare questa cantina per capire Darapri Darapri di apostrofo ARAPRI con l'accento viene dall'incontro di tre amici con la passione del jazz e del vino Sansevero hanno sede la cantina ha sede nel centro di Sansevero e le bottiglie sono nel sottosuolo la cantina di Darapri nasce praticamente sulle antiche mura di Sansevero e la cantina che c'è nel sottosuolo erano le antiche carceri di Sansevero e in particolare quelle in cui furono incarcerati Morelli e Salvati erano i due carbonari diciamo che si nascosero in Puglia la visita a quella cantina senza andare fin nel Franciacorta vi dà l'idea di cosa è la produzione degli spumanti e di quanto si possa fare spumantizzazione in maniera convinta in una regione che non lo era bocata a questa attitudine e loro lo fanno da oltre 25 anni con grandissimi successi penso che la spumantizzazione possa essere almeno fino a che non avremo la possibilità di avere una distilleria anche nella nostra regione possa essere un'altra grande possibilità soprattutto per alcuni dei vitigni recuperati in questi anni come il fiano come il fiano minutolo mi fanno cenno dalla regia che abbiamo la nostra pausa ci lasciamo per un attimo di pubblicità andiamo a prendere un caffè e poi riprendiamo un'altra